Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot! Ben ritrovati! Siete pronti per un'altra serata in compagnia di Eurojackpot? Nell'attesa di scoprire la combinazione vincente, voglio raccontarvi un record decisamente curioso, che appartiene all'Italia. È infatti milanese il tiramisù più lungo del mondo, realizzato a marzo 2019. Ha una lunghezza di 273,5 metri ed è stato preparato da 30 pasticceri, con l'utilizzo di 50.000 savoiardi per un totale di 15.000 porzioni. Decisamente allettante come il jackpot in palio questa sera, che vale ben 85 milioni di euro. L'estrazione sta per iniziare. Colleghiamoci ora con la sala delle urne. Nella prima urna elettronica vediamo già le sfere in movimento. A breve scopriremo il primo numero estratto della nuova combinazione vincente. Pronti per il primo numero? Che l'estrazione abbia inizio! Il primo numero è... Trenta! Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo estratto è il numero... Tredici! Siamo ora al terzo estratto, ed è il numero... Quarantatré! Quarto numero di questa estrazione. Eccolo! È il numero... Sette! Quinta sfera. Pronti a scoprirla? Con i due euro numeri potrebbe assegnare vincite milionari questa sera. Il quinto numero estratto è... Quarantasette. Vengono ora estratti due euro numeri su dodici sfere numerate. Pronti a scoprirli? Abbiamo il primo euronumero della nuova combinazione vincente di Eurojetpot. È il numero... Undici! Manca una sola sfera per completare la combinazione vincente di questa sera. Il secondo euronumero estratto è il numero... Sette! Controlliamo ora la combinazione vincente. Sette! Tredici! Trenta! Quarantatré! Quarantasette! I due euronumeri sono... Sette! E... Undici! Vediamo insieme i risultati di questo concorso e le quote di tutte le categorie di vincita. Questa sera non è stato realizzato il 5 più 2. Ma sono state numerosissime le vincite sia in Italia che in Europa. Molti giocatori sono stati premiati con vincite straordinarie. Se non è toccato a voi, non perdete la speranza. La prossima estrazione sarà martedì. Continuate a seguire i canali Eurojackpot per sapere dove sono state realizzate le vincite. La caccia al jackpot milionario prosegue in martedì prossimo. Il jackpot in palio sarà pari a... 92 milioni di euro Il jackpot in palio è sempre milionario perché anche in caso di vittoria riparte da 10 milioni di euro. E se foste voi i vincitori della prossima estrazione? Per giocare bastano solamente 2 euro. Eurojackpot vi dà appuntamento a martedì prossimo. Vi aspettiamo!